Oggi parliamo delle foto da utilizzare per il tuo hotel Ciao sono Alessia, benvenuto in questo nuovo video Come promesso oggi dedicheremo l'attenzione solo alle foto che deve fare il tuo hotel Oggi ho preso un po' di appunti perché le cose sono veramente tante da dire Quindi ogni tanto sbircerò Ma veniamo a noi Prima di tutto le foto devono essere di qualità E questo non significa che devi chiamare un fotografo e spendere tantissimi soldi Ma tutti noi abbiamo un cellulare decente che ci permette di fare delle foto veramente belle Quindi soprattutto se magari hai degli iPhone Ma sinceramente dei colleghi mi dicevano che anche dei Huawei pagati meno Quindi di fascia leggermente inferiore Hanno dei risultati veramente ottimi Soprattutto per i video Quindi non sottostimiamo i nostri cellulari Facciamo delle belle foto Impegniamoci per farle a fuoco E così le potremo utilizzare per i nostri social Poi vediamo Mi raccomando Dobbiamo fare le foto a misura In che senso? Quando creiamo delle foto da mettere sui social Soprattutto quelle che contengono molto testo Quindi magari quelle delle promozioni E molte volte sui social non le mettete a misura Quindi quella foto non è leggibile Quindi se io sto scorrendo magari il mio feed di Instagram Vedo questa foto È talmente piccola Che non cattura più di tanto la mia attenzione Quindi prendo e passo avanti Magari il resto dell'offerta Se è troppo lunga la mettete nella descrizione O altrimenti create delle immagini apposta Per ogni social Tipo Instagram Le misure di Instagram sono 1080px1080 Facebook è 940x788px Quindi mi raccomando Createle ad hoc E vedrete che avranno una maggiore resa queste foto Convertiranno meglio Poi vediamo un attimino cos'altro c'è Sempre per conto riguardo alle promozioni Non fate la foto della foto Mannaggia Create una apposita O comunque create una grafica online E poi la create su misura Per metterla su Facebook o su Instagram Ma dove volete voi Qual è il social che utilizzate per il vostro albergo Poi Per quanto riguarda la tipologia delle foto Possono essere diversissime Parliamo un attimo delle foto delle colazioni La maggior parte di quelle che vedo sono pessime Perché? Perché tendenzialmente il vostro tavolo delle colazioni è pessimo Parliamoci chiaro Perché si mettete i croissant che vanno sul giallino marroncino Poi mettete il muffin giallino marroncino E il pan carré Tutte queste cose che rendono monocolore la foto E poco accattivante Metteteci la frutta Metteteci il succo di frutta all'arancia Metteteci i colori in questa foto Nel tardà giovemento la vostra sala colazioni Ma nel tardà giovemento anche le foto Le foto devono essere colorate Devono catturare la mia attenzione Perché nella marea di immagini Che io trovo in un feed Mi devo soffermare Quindi se la tua foto non mi piace Automaticamente scorro e vado avanti Mentre mi devo soffermare E devo dire Che buono Devi solleticare la voglia di mangiare da te Soprattutto se poi hai una colazione a pagamento Perché devo spendere questi soldi? Fammelo vedere Per quanto riguarda le foto Come dicevo variare Quindi dicevo la foto della colazione Metti le foto dei dipendenti Il tuo hotel sarà pur composto da persone Quindi facciamole vedere Lo chef che ti sta preparando il piatto Il cameriere che ti fa vedere Magari il vassoio che sta portando la colazione in camera E da qui magari ci fai anche il video Perché no? Però far vedere i tuoi dipendenti La reception Loro sono le persone che maggiormente conversano con i tuoi clienti Sono proprio le prime facce che vedono Quando arrivano nel tuo hotel Farli vedere Far vedere che sono delle persone divertenti A modo E che li coccoleranno ancora prima del loro arrivo Poi vediamo cos'altro c'è Ah ecco Poteste fare le foto Delle vostre camere E ok E fin qui ci siamo Mettete le foto Mettete la foto della camera Uno Metteteci dei modelli Perché devo Quando vedo la foto Devo sclamare Anch'io voglio fare questo Se vedo solo la foto della camera Difficilmente mi coinvolgi Rispetto alla stessa inquadratura Con magari una modella o un modello Che si rilassano sul vostro letto Mentre leggono un libro O mentre gustano un croissant Devo poter vedere la foto E dire Mamma mia Anch'io vorrei stare lì Vorrei stare a posto di quella persona Credetemi Quindi le foto Con un modello o una modella Convertono maggiormente Rispetto a quelle senza Poi sempre all'interno di queste foto Magari con i modelli Inserite tutti i prodotti Che vendete Nella vostra tecnica di cross-sell Quindi magari date la possibilità Di avere lo spumante in camera Una torta Un mazzo di fiori Magari il vino Vedete voi cosa potete offrire I vostri clienti E includetelo nella foto Perché nel momento in cui Poi vi chiederanno Anch'io voglio tutto ciò Ok signori Lo potete avere Ma a un costo supplementare Poi Siete a un business hotel Fate vedere Perché il vostro businessman Deve venire nel vostro hotel E quindi perché magari Deve organizzare un evento da voi Farete vedere che le camere Hanno tutti i dispositivi adatti Per farlo lavorare in tranquillità Che avete delle sale conferenze Magari realizzate anche dei light lunch Fate vedere come li avete organizzati Mettete le foto di questi light lunch Così sono ispirato anche a farlo da voi So che è un servizio di qualità Tutti i miei ospiti saranno contenti E allora Pum Prenuoto Un'altra cosa che potete fare Sono le foto Della vostra città Del vostro borgo Dei dintorni E lì magari potete pagare un fotografo Che solitamente queste foto Già ce le hanno Quindi gli date un tot E lui vi fornirà delle foto Della vostra città Magari dall'alto Foto panoramiche Che voi potete utilizzare Sul vostro sito In modo tale Da invogliare ancora di più Le persone Venire da voi E perché no Magari se avete una vista Anche le foto della vista Non so In questo caso Di nuovo la modella Mentre sosseggia un caffè Mentre guarda la vista mare E dà la sua junior suite Questo può essere un esempio E altre foto Che potete mettere Sono quelli di Magari dei parchi divertimenti Se siete a pochi chilometri Da un parco divertimenti O comunque da posti Che effettuano delle attività Mettete delle persone In questo modo Verranno tirate Anche dal fatto Che attorno a voi Ci sono delle attività Da fare Perché oramai Il viaggio è diventato Tutta un'esperienza Le persone vogliono viverlo In tutti i sensi Non vogliono solamente Andare al museo E vedere un quadro Ma vogliono fare Delle esperienze Che restino ben imprese Nei loro ricordi Quindi voi mostrate Che da voi O nei vostri incontri Come si possono fare Vorrei inoltre Fare in questo video Una piccola menzione Appunto Sui video Non ci sono solamente Le foto I video Sì Effettivamente Costano un po' di più E qui in questo caso Potete usare I vostri telefoni Però se vi affidate A un professionista In questo caso è meglio Potete fare il video Di la vostra sala Le persone che stanno mangiando Che gustano Uno dei vostri piatti Una persona che entra in hotel Che fa il giro dell'hotel Quindi fate vedere magari Dei dettagli particolari Che esplora Una delle vostre stanze migliori Così via E anche dei dintorni Come dicevo prima Magari una bella panoramica Dall'altro Dall'alto Della vostra città Ora Le idee che vi ho dato Sono davvero tante Andate a vedere Le immagini che avete messo Su vostro sito Sui vostri social Sugli OTA E andatele a modificare Immediatamente Se sono di pessima qualità Quindi Oggi compiti a casa Controllate le vostre foto Se avete bisogno Di una consulenza Per il vostro hotel Vi invito ad andare Su www.alessiaboccanfuso.com E a prenotare Una chiamata Per tutto il resto Mi trovate sui social E i link Sulla in descrizione Besos